Buongiorno a tutti, abbiamo già parlato su queste frequenze di Shodan e di come possa essere utilizzato per trovare vari dispositivi sulla rete, ma l'approccio che abbiamo utilizzato è un approccio un po' da teste quadrate, potremmo dire così. Infatti abbiamo utilizzato delle query che per quanto funzionino ci permettono di identificare dei prodotti che ad esempio abbiano degli screenshot o siano di prodotti specifici. C'è un altro modo molto interessante di cui mi hanno parlato in questo periodo che ho scoperto funzionare parecchio bene, di cui voglio parlarvi. Qui ad esempio vediamo una query su Shodan Images che abbiamo già visto l'altra volta, che vi mostra tutti gli screenshot che lui identifica come loggati su un sistema. Alcuni sono sbagliati, alcuni sono palesemente webcam, ma l'agence artificiale ci sostituirà tutti. Qui invece c'è un'altra cosa molto interessante che è tutti le label che ha trovato rimosse, cioè questi sono gli screenshot che lui non è stato in grado di identificare. C'è della roba anche interessante, qua una pubblicità, qua una webcam, qua varie schermate di login, ma non è questo di cui voglio parlarvi. Questo sistema non saprei come chiamarlo, si potrebbe chiamare pesca strascico, qualcuno l'ha chiamato così, oppure si potrebbe chiamare ricerca dettagliata, una ricerca che non punta tanto all'elemento informatico, non è che punta a dire voglio questa versione di software in modo da vedere come è vulnerabile o cose così, ma si tratta di cercare potenzialmente punti esposti in base a quello che è sul web solitamente, poi si possono anche certamente analizzare altri servizi, i più comuni comunque al giorno d'oggi sono quelli web. In termini come codice fiscale, codice cliente, addirittura targhe, portano a ottimi risultati. Adesso vi faccio vedere un esempio che ho trovato, è stato tra l'altro analizzato anche qualche settimana fa, dal punto di vista del video ovviamente, è stato pubblicato pochi giorni fa in realtà l'articolo da Paolo Attivissimo, che adesso vedremo, è questo, vedete, questo completamente vuoto, pubblicato su Eolo, e come potete vedere, questo servizio, molto semplicemente, se voi gli date cerca, ovviamente è lento per varie ragioni, vi dà delle informazioni comunque di interesse, potremmo dire, ragioni sociali, date, cose così, ma fin qui potrebbe essere attivamente poco. Questi dati comunque già non dovrebbero essere online, eh? Si tratta di, come dice, anche Attivissimo nel suo articolo, che vi consiglio di leggere, così che possiate leggere anche eventuali evoluzioni di questo caso, poiché la cosa divertente è che non ci sono dati, possono permettere di fare un po' di OSINT, potremmo dire, ma ci sono praticamente tutti i dati, sono i dati dei clienti. Infatti lui ha lasciato una sorta d'appello per capire di chi sia così da avvisarlo, e vi dà dati, persone, nomi, cognome, metodo di pagamento, e cosa è stato comprato, caffè, quindi nulla di losco, però, comunque, non è il miglior modo di trovare i propri dati su internet. Un altro caso che è stato trovato con questa tecnica, tra l'altro da una persona con cui ho avuto il piacere di parlare, è stato questo. Ve lo faccio vedere su Shodan, è qua, come vedete, semplicemente cercando targa. Perché lui menziona l'Atari, è un sito assicurativo, ed era una bella miniera di cose. Fondamentalmente, per quanto si parlasse, qua anche nell'articolo, ve lo lascio ovviamente in descrizione, di dati di test, erano dati di test fatti molto molto bene, diciamo. C'erano fondamentalmente polizze, cose così, quindi complimenti all'azienda che ha costruito comunque dei prodotti così credibili per un programma di test. Cioè, è una bella cosa che si dia opportunità di usare non dei file che non c'entrano niente, ma dei veri e propri moduli assicurativi artefatti, potremmo dire, non in senso illegale, però che testano le reali capacità del sistema. Alle volte anche semplicemente fare dei mix di parole interessanti permette di scremare, perché ad esempio la parola gestionale crea tantissimi risultati, sia di siti che vendono software gestionale, sia di gestionali comunque messi al sicuro. Ricordiamoci che di per sé esporre qualcosa su internet non vuol dire fare una cosa negativa, vuol dire semplicemente esporlo, basta farlo in modo sicuro. Ad esempio, gestionale corsi, non l'ho trovato io, l'ho trovato un caro amico, vi fa trovare questo interessante sito di Arzignano che tra le pagine ha questi dati. Io questa volta devo fare un botto di censura, non sono neanche tanto bravo a farla, questo è il problema. Comunque vi faccio vedere un po' di, qua vedete, motivazioni. Questo CQC quindi relativo proprio a cose professionali con numeri di telefono e cognomi e nomi proverò a contattare appena terminato il video, visto che praticamente l'ho scoperto adesso, l'ho mandato la query poche ore fa, lo contatterò l'azienda. E a proposito di contatti, adesso discutiamo sul cosa fare in casi del genere, cioè cosa fare quando trovate una cosa del genere. Siamo davanti all'home page di Shodan e discutiamo sul cosa bisogna fare. Fondamentalmente la miglior cosa è trovare in qualche modo a chi appartiene alla pagina, solitamente può essere scritto nel domino utilizzato, può essere scoperto magari con un quiz sull'IP, si può provare a vedere se c'è sul sito qualcosa. Molto spesso ci sono informazioni, ad esempio nel footer o anche nel codice HTML della pagina. Insomma, solitamente si trova raro che non si capisca chi ha fatto qualcosa. In certi casi, come quello del caffè che abbiamo visto, è possibile magari fare delle indagini di altro tipo. Uno può provare a contattare magari le persone citate, può provare a fare indagini sul web, cosa che ad esempio ha fatto Paolo Attivissimo, mi sembra, per la questione delle ambulanze. Vi lascio anche quell'articolo in descrizione. E in sostanza, avvisare responsabilmente, aspettare che il programma sia stato messo al sicuro, eventualmente dare anche un paio di indicazioni base, se vengono chieste, e poi se desiderate pubblicare la cosa. Però, da un lato un po' siamo tutti vanesi, dall'altro siamo un po' contenti quando vediamo queste cose, un po' la natura hacker dell'informatica, un po' curiosa. Quindi, se censurate bene, ci sta a pubblicarlo. Fate in modo che non sia trovabile da chiunque. Pubblicatelo sul vostro profilo Twitter, su cose così. Però la parte dell'avvisare è molto molto importante. Quindi, se, diciamo, non sapete come farlo, o non trovate le coordinate, avvisate un informatico più competente. Scrivete a me, scrivete a Paolo Attivissimo, scrivete un po' a chi volete, purché si riesca a capire chi è il proprietario del software e lo si possa mettere al sicuro. Perché diciamo che quella è la priorità, specie quando si parla di dati personali. Nessuno vuole essere vittima di un data breach, e quindi, pronunciato malissimo, breach tra l'altro, comunque nessuno vuole essere vittima di una cosa del genere. Ed è quindi un bene che, in questi casi, si parli, si chiede aiuto anche a una persona più competente, qualora non si abbiano le competenze, in modo da permettere di identificare il proprietario e chiuderlo. Un po' quella che viene chiamata Responsibility Disclosure. L'obiettivo è che la cosa venga prima notificata al proprietario e poi al pubblico, in una maniera che non crei problemi a nessuno. Se poi proprio il proprietario non si trova o non gliene frega un tubo, ci sta dare qualche indicazione di più. Però, in tal caso, è sempre meglio avere una certa esperienza per capire quando farlo. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere un mi piace, commentarlo se avete qualsiasi dubbio, a condividerlo. Vi auguro buona continuazione e vi invito a vedere i link in descrizione per leggere gli articoli che ho citato e, in ogni caso, per avere un'idea generale su come supportare il canale.